Ben ragazzi, è quello che vi è trovato nel mio canale, siamo nel settimo episodio di Infeibus Oggi ne ho registrati 4 ragazzi, perché io voglio giocarci, voglio finirlo, voglio andare forte Perché mi piace tantissimo, spero che vi stia piacendo anche voi Perché sono fermo al terzo episodio, quindi non ho ancora i riscontri degli altri Mi chiedo perdono per lo scorso episodio che all'inizio ho messo l'immagine del quinto Però ho fatto un po' di macello, perché ho stato praticamente quasi tutto il pomeriggio di domenica a lavorare su quei tre video lì E non è stato facile ragazzi, quindi io mi perdo in chiacchiere Come vedete io ho il giacchino di Call, perché ho finito l'espansione, ragazzi erano proprio tre missioni del cavolo E non c'era proprio bisogno di farvele vedere E comunque, come vedete, i raggi laser ce li ho al massimo Adesso c'è lo scatto infinito Guerra agli intolleranti Qua c'avevamo modo di scegliere se fare l'ambizione col karma positivo e col karma negativo Ovviamente scelgo col karma negativo Che c'è? Ho preso paura Oddio Sono un antiloro Eh, bisogna Uccidere gli attivisti e interrompere ad uno delle lifeline Ok Dove sono? Via Ma cosa succede qua ragazzi? Qua Bam 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 Insomma tutti esplosi Questi sono sti bastardi Ma è che gli agenti del DUP Ma sto potendo mi fa impazzire ragazzi perché con gli handshot muoiono subito questi Come si è vero? L'amico del mio nemico ha pessimi gusti Il fatto di amicizio Non bisogna avere una maniera E non è che sono insieme in un posto come questo Io ne sia tanto partecipi della mira Insomma non è che sia mio forte Bam Questi qua però li ho distrutti ma A dovere Uccidi gli attivisti Gli attivisti li uccidesi tutti Ok Dove è loro legal Beh Deve essere per forza una di queste rimpatriate Attacchiamo finché non troviamo il nostro uomo Ok Ok Via Si viaggia Eh però Scusami è perché mi dà ancora l'icona lì Come capire Cosa c'è qua che Ok Attacchi I ragioni Per trovare l'idea degli attivisti Ok Tutti questi deve attaccare Ma Boh Quale cazzo vado Quale più vicino E' una figata Sto potre ragazzi Va troppo forte No Distruggiamo questo Ti ho battuto Ma ti lascio sparare Il primo col du Aia aia Chi è che spara Bomb Cazzo Ehi Ecco qui un trucchetto Che io chiamo Laser Merda Sti poveri bastardi Che cazzo Però ci sono sti bastardi qua Che mi rompono le palle Via muori Basta Muori No Qua è assorbito il fumo Ragazzi Adesso c'è il potere del fumo Che per adesso Non è che mi piaccia Tuttissimo Cioè Ho scoperto il laser Ragazzi Il laser è fenomenale Dov'è? Un neon Dammi il neon Ok Ottimo Ottimo Un neon Non è che mi spara così ostia Qui via Anche io voglio quello che rimane tipo Non ho il suo potere Via Andiamo da quest'altro Sono così carini Quando dormono Ancora Questa qua è proprio cattiva Allora spaccheremo teste finché non lo troveremo Posso andare avanti Ora mi piace adarsi ragazzi Proprio cattivo adesso Non so se sono inquadrato bene Scusate Sì Ok Allora Via Oddio Oddio Sì però Devi fare uccidere me Ti bastardi Guardala Aia Grande Così mi dà il karma Merda Via 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 morì porca puttana mi sa che qua devo reagire così allora mamma mia ragazzi sto potere poi fantastico mamma mia altrimenti no da l'ora si tratta di un altro pezzo di notte via di qua si manda per i giustiche quasi completamente rosso come sono quasi all'ultimo livello quinto perché sono il quarto però sono ancora metà del quarto attivisti inzettiti ok merda c'è questo cazzo cazzo via via gabbo ok rifacigliati la vita perché sono qua cazzo non mi dirmi che poi eccolo tu bastardo dove cazzo è si l'ha fatto molto mi hanno detto minchia è troppo è troppo complicato questo bastava via 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 no devo asservire qualche neon qua assorvi ok mi sento di nuovo carichi no per te non devo andare a caso oh ma sto brutto porco schifoso sto bastardo suca coglione si annoia il tipo e noi il leader degli attivisti ancora non abbiamo trovato perché te ne è andata so dove si trova il loro lo rilevo sono sul lato ovest del pioneer tunnel ok ci vediamo lì ha una scorta del dupe e entra ora nel tunnel no no Fetch 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 è morta la tipa lo giugge il pioneer tunnel contro Fetch ok io vi devo devo levare devo levare il disturbo ragazzi scusate dov'è il tunnel va tunnel non mi piace aspetta prendiamo un po' di meno qua perché dobbiamo un attimino ok asciubici i missili grande via si è entrata nel tunnel può darsi a copertano la sentirei forse si questa è la firma di Fetch ah si combatti i nemici nel pioneer scusate permesso sono in missione dai ammazza di tutti i gabbo devo vedere una ragazza ho detto permesso mamma mia le granate sono fighe le granate qua un cazzo questo tipo qua è insopportabile però l'ho ucciso subito adesso questo qua però non è che abbia tanto neone meno che non ci sia quello delle macchine forza fatela resisti Fetch arrivo ma ecco quale strage faccio qui spam ok raga usiamo un po' di fumo un po' di fumo fa fa nuca la sine aia via perché qua aspettate un secondo devo prendere un altro po' di fumo cioè sempre non confondendo le cose eh si aspettate ok vai 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 ok io ne ho inventati un pochino se abbiamo un po' di nenne ma è una e torniamo a neon perfetto cazzo via via ma da se è rincastrato ok così ci ricarichiamo ottimo direi spam cos'è non è rimasto più nessuno no c'è un nostro amico lì questo cazzo fa su cinese niente merda non dovrebbe essere difficile cosa succede cosa succede mo oh ragazzi avete vinto voi io mi arrendo ma faccio la casina ragazzi ho capito cosa dovevo fare mamma mia dieci no c'è un ucciso facciamoli fuori non è un piano nessuno ok mi può fermare no 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 io boh avreste dovuto scegliervi un lavoro diverso la città è bella di notte non c'è un po' di luce non mi sarai mica diventando un camamolezza vero no insomma non se non vuoi aspettate un secondo ti stai prendendo gusto eh ancora questo potere qua che così qua sistemiamo un po' le cose ragazzo sveglia non ho nessuno davanti però ho già risolto non è che ne abbia uccisi molti eh cosa succede qua cazzo questo l'ha visto sopra tali sicuramente l'ha visto sopra tali questo però brava la tipa finalmente va via la notte perché sinceramente non è che mi piacesse tanto allora vediamo cosa altro fare questa notte lo finirei ragazzi però devo registrare quindi non posso non posso continuare su questo passo perché sono mi brucio guarda l'intolleranti tutti gli uccisi mamma mia quanti non ammazzati potenzialmente non c'è nulla da potenziare e qua serve il karma livello 5 raggio al fosforo ma perché non posso perché non è frammenti lo ok vediamo volevo soltanto ringraziarti mi dispiace per tutti quei laser alla fine ma insomma è passato parecchio tempo da quando non serve esagerare con le smalcerie e dovremmo è solo questione di tempo prima che quei sicari ci uccidano dobbiamo cogliere l'attimo prendere il toro per le corna vivere la vita al massimo capisci? dobbiamo morire giovani portandoci dietro quanti più dio vi possiamo non sono d'accordo io uscirò vivo da questa faccenda e tu verrai con me non ne sarei così sicura questa qua devo morire ho capito se no non è contenta ok ragazzi siamo qua e adesso dobbiamo andare a salvo frammento intanto la missione inizia qua e adesso non mi ricordo bene cosa che devo fare perché adesso mi dice me lo direi filmato sicuramente perché io non so come far ad avviare la missione sinceramente su di qua yes ok bitches il fumo di nuovo sarà fantastico grande attraverso il punto di ristruttura ma così non vale ah che palle madonna mia queste cazzo qua mi sa che devo usare il fumo eh ah si perché devo passare attraverso devo stare attento alle terrette automatiche quegli affari non perdonano eh infatti lo sa anche lui che sono scomodi non mi conviene tanto passare per te no 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 ok via via di qua vai bomber solo ci saranno i tipi aspetta distruggiamo merda che cazzo è? minchè due colpi abba su cecchini volevo sparare il coso ma chi ho che c'è chi è? prima uno e poi later ahia no 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 basta ok ok questa si chiama il salto la macchina non mi serve ora meno che non si come rampa di lancio esatto non c'era bisogno di ricordarmelo di ricordarlo come si fa giocare cazzo un elicottero avete deciso di non nascondervi più dietro i vostri giocatori eh merda cosa sono? dei robot merda qua la situazione si fa interessante eh ma basta io poi voglio il neo non lo voglio questo potere dai muori ma sti qua c'hanno tutto il cemento ti bastardi chi vuoi il cemento sicuramente sarà l'altro dei tre poteri sicuramente sono tre ok ahia ok speriamo non c'è una granatuzza no? no ma va ottimo vanno ancora giù ok mi sa che c'è del led del neon non led chi è quella lì? cazzo augusta ti hanno fatto i ponti per starti così sul culo quindi mi riconosci ah si si sei quella che un paio di settimane fa mi ha colto in flagrante e mi ha lasciato andare sei cambiato da allora ah si intendi la roba del fumo? si è nuova so che hai dei nuovi poteri hai ampliato il tuo arsenale eh già non so dove tu l'abbia sentito io sono solo un povero sparafumo vedremo eh già per ora mi ha servito a poco che cazzo oddio mamma che cazzo è questo? oh shit cazzo merda c'è il neon qua non devo usare il neon ragazzi non lo so perché non lo voglio usare ah no cazzo c'è solo il neon qua da se no mi finisce perché io mi ricordo che lei ha detto cazzo questo qua mi fa male ma quanto sei grosso tu mi deve più colpire raga se no quale è un casino ma questo mica muore shit eh no io non lo voglio usare stronzo merda quanto mi manca però eh no quando ce la faccio mica non lo so grossi e eh eh più mi fanno sentire piccolo non c'è mica non c'è no torna arriva non non c'è forma di di fumo non c'è niente da spaccare non riesco a boh non c'è niente da spaccare che faccia fumo dai un qualcosa raga non c'è niente non c'è niente non posso convincerti a farti buttare giù vero ho affrontato gli terroristi ben più validi di te niente devo affrontare devo usare il neon raga non mi dire vediamo se no eh no cazzo questo non funziona shit non voglio usarlo il neon putt'a stronza se però devo morire raga lo uso eh non lasciarti uccidere dal tuo orgoglio maia cazzo gli ho tolto veramente poco no sono morto dai 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 raga che forse ce la faccio c'è ancora un missile lui è a pocosissimo alla fine della vita io sono grossi e mi devo mancare l'ultimo missile non devo farli uccidere perché lui si sta incazzando parecchio cazzo no l'ho mancato l'ultimo missile ma perché è proprio stupido guarda non posso convincerti a farti buttare giù vero shit 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 guarda lì quanto cazzo ce n'era da ucciderlo merda merda via 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 questo lo dici tu puttana ma devo farmi uccidere ok io il neon non ce l'ho stupida puttana merda ok ok col cazzo che usa il neon stupida è morto e non ho usato il neon io ho mentito sulla questione del neon ma potrei farci risparmiare un sacco di tempo devo solo assorbire un po' del tuo potere tutto qui mi stai chiedendo di regalarti il mio potere? beh no non tanto da innavissare un ponte ma abbastanza da togliere le tue lame di cemento dai miei amici dopodichè non mi rivedrai mai più io ho un'idea migliore che cazzo fa? non mi saresti d'aiuto là nella tua baracca perché non resti qui con me? no preferisco la mia idea che cazzo fa? che cazzo fa? oddio che cazzo non guarda di basso non basso che cosa sono? un gigante di cemento? non riesco a capire raga che cazzo è stato? cosa è successo? sarà siamo in un'altra città eh? la prova perfetto ragazzi allora signori io vi saluto e vi ringrazio ovviamente vi invito a lasciare un like un commento e ditemi cosa ne avete pensato di questo episodio è stato anche bravo a non morire contro il boss usando solamente il non ricaricando potevano darmi comunque un trofeo ma vabbè mettiamelo voi ragazzi con un bel commento ditemi se avete giocato a voi questo pezzo qua se avete usato anche voi lo stesso mio metodo qui da Gambolisco e Reda il famous second song è tutto, bella raga